Partito? Allora, 15 marzo, scena 2, Ciac 1, Valentino e Sergio, muro di Perlino. Axia! Aspettiamo un altro 10 minuti. 10-20 minuti, credo che non è il mio tipo. Mi sono sbagliato. Prova a conoscerla meglio? Adesso sono 4 settimane che la conosco. Proprio è poco quella. Credo che io dovrei lasciare meglio. Stop!